Grazie Presidente. I privati devono firmare ai quali è subordinato il rilascio del permesso di costruire in base alla legge del piano casa e abbiamo voluto porre l'accento su delle obbligazioni che devono essere previsti da questi atti che riguardano gli immobili in housing sociale. Il secondo punto invece del paragrafo che potete leggere sull'emendamento riguarda invece le caratteristiche che dovrà avere la convenzione sociale integrativa che dovrà essere stipulata obbligatoriamente a valle della convenzione urbanistica relativa invece ai programmi urbanistici che prevedono housing sociale. Questa convenzione sociale integrativa secondo noi deve prevedere tutta una serie di disposizioni che elenchiamo dettagliatamente nell'emendamento. Abbiamo avuto particolare attenzione in questa convenzione e noi abbiamo posto invece proprio agli spazi pubblici, agli spazi più che pubblici di comunità, agli spazi condivisi. La nostra posizione è completamente opposta a quella che veniva esposta precedentemente dal consigliere De Priamo e questo lo dico perché per noi l'housing è anche un'opportunità da cogliere per rivitalizzare delle zone della nostra città in cui mancano completamente gli spazi di comunità. Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni all'edificazione di intere zone della nostra città con dei condomini, con delle palazzine dove ognuno entra e esce di casa mattina e sera e poi non ci si conosce neanche tra vicini. Noi vogliamo invece creare delle nuove condizioni di vicinato, vogliamo approfittare di questa possibilità di dare delle indicazioni sulla fruizione e sulla condivisione di questi spazi perché anche in queste zone che ad oggi noi chiamiamo dormitorio ma semplicemente perché la gente non ci vive, ci va solo a dormire, si ricreano invece dei momenti in cui le persone possano trascorrere anche insieme il loro tempo e per questo lo abbiamo voluto specificare, mettere per iscritto all'interno di questa convenzione che abbiamo chiamato appunto convenzione sociale integrativa perché noi è importante, era importante con questa delibera sia dare delle definizioni dal punto di vista urbanistico ma soprattutto porre l'accento su quello che deve voler dire l'housing sociale come nuova modalità di vivere all'interno della nostra città. Grazie.